ciao bambini come state sono la maestra katia oggi che è la giornata della terra voglio leggervi questo bellissimo libro che a me piace un sacco si intitola saremo alberi nella terra ci sono tanti semi che dormono prova a chiedergli sottovoce chi sarai da grande se ascolti con attenzione riesce a sentire le loro risposte io 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 sarò un albero classico io disordinato io felice nel vento io piacente io capellone io disciplinato io raggiante e tutti insieme saremo una grande foresta e tu e tu che albero sarai? io bambini ho pensato a quale albero sarei e ho provato a realizzarlo guardate io sarei un albero spettinato sicuramente adesso però voglio vedere i vostri potete realizzare un sacco di alberi con tutto il materiale che avete a casa i colori la colla le forbici bottoni io ho usato i fili di lana mi raccomando tanta creatività e mandatemi un sacco di foto voglio vedere voi che albero sarete